Credo che effettivamente comprendo e riesco a leggere nello stesso tempo più pagine, quindi per me è eccezionale, davvero. È davvero vero, scusa il gioco di parole, che per imparare devo stare ore e ore a leggere e ripetere. È davvero la via più efficace, più opportuna e più propositiva che esiste, forse cento anni fa, probabilmente. È come se utilizzassimo oggi la tecnologia di cento anni fa, proponibile, è come se usassimo, che ne so, il piccione viaggiatore per recapitare una missiva, sto scherzando. Ma perché te lo dico? Pensa cosa potrebbe succedere migliorando in modo estremamente immediato le tue capacità di apprendimento. Ascolta cosa dice Francesca, un insegnante, ti lascio le sue parole, perché penso che le parole di chi ha frequentato sia la cosa più bella e più reale. E oltre a questo, te lo dico proprio col cuore, a volte le persone non credono, ma il modo migliore per capire è toccare con mano. Ascolta. Dire che i risultati si vedono. Non mi misuro, non mi interessa misurarmi, però vedo che effettivamente comprendo e riesco a leggere nello stesso tempo più pagine. Quindi per me è eccezionale, davvero. Non trovo parole per descrivere. Che bello che una persona dice, è eccezionale, non trovo parole per descrivere. Nello stesso tempo leggo molte più pagine comprendendole di più. Ti invito davvero a due mini corsi. Inizia a toccare con mano, inizia a sperimentare anche tu. Io sono concreta, poca teoria e immediatezza nei risultati. Esistono due mini corsi. Un mini corso di memoria, vedi proprio, te lo scrivo subito. Un mini corso di memoria, dove già in una sera cosa fai? Raddoppi la capacità di memorizzazione. E un mini corso di lettura veloce, anche qui in una sera assolutamente raddoppi già la tua capacità di lettura. Ora, so che sembra utopistico, ma non penso che potrei esistere da 30 anni tenere i corsi alle università, se così non fosse. Ti aspetto, te lo dico veramente di cuore mettendoci la faccia. Ciao, 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 ciao.